Sindaco, per sei mesi il cavallo di Leonardo da Vinci qui fuori dal palazzo di Regione Lombardia? Sì, è una grande occasione, è una grande operazione culturale prima di tutto perché il cavallo ritorna a casa, dopo 500 anni si chiude un cerchio, si chiude una storia. Questo cavallo fu commissionato a Leonardo da Ludovico Immoro e poi per tante ragioni anche la guerra non fu mai realizzata. Dopo tanti anni, dopo 500 anni, un mecenate americano riprese in mano il progetto e affidò a un artista giapponese, Nina Kamu, la realizzazione di questo cavallo in bronzo. Ne furono fatte tre copie, la copia originale è questa e quindi oggi viene ricollocata nella sua città ideale, nella città in cui fu progettato e pensato.